Il bordo, le strade, la radio, dal suo libro di racconti l'esordio alla regia cinematografica di un grande del rock. Nel film sai sempre come va a finire era, nella vita non lo sai mai. Stefano Accorsi nel film di Luciano Ligabue, vincitore di 3 David, Radio Frecciani, lunedì alle 20.45, Prima Visione, Italia 1.